Si chiama Tracy Kiss, è una bellissima ragazza di 29 anni d'età di Buckinghamshire, nella Inghilterra e pensate che questa bellissima donna ha trovato il giusto rimedio, secondo lei, di tipo naturale, per combattere l'influenza. Bella donna infatti ha messo di bere ogni giorno un frullato a base di sperma, che le conferirebbe a suudire gli anticorpi necessari ad affrontare la stagione brutta, la stagione invernale. Se il bello si vede l'aiuto del suo mio amico, la donna ingoglia regolarmente per l'appunto dello sperma, così da aumentare le sue difese immunitarie. Ogni mattina mischia lo sperma a frutto di stagione, ero bene. Mi sentivo sempre spossata e senza energia. Adesso il mio amore è migliorato, il sapore è molto buono, ma cambia a seconda di quello che il mio amico mangia. La donna è vegana e l'apporto giornale dello sperma gli fornisce anche, pensate, le giuste proteine che il suo organismo ha bisogno nel corso della sua vita di tutti i giorni, proprio perché manca di proteine, ma quelle che è la roba e lo sperma sarebbero in giusta quantità e sarebbero quelle che farebbero bene al suo corpo. Detto ciò, grazie a voi tutti per l'ascolto. Grazie per l'ascolto e un saluto a presto. Grazie per l'ascolto e un saluto.